Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei file Gerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. Provate il nuovo servizio di montaggio SMD beneficiando di uno sconto di 7 dollari sulle spese di montaggio. Ciao a tutti, come sempre prima di iniziare un saluto a tre nuovi patrons che ci hanno raggiunto nella nostra comunità di elettronici entusiasti. Grazie a Giuseppe, Massimo e Marco, molto apprezzato il vostro supporto. Veniamo al video di questa sera, sempre tema riparazioni, abbiamo ancora una volta uno switching, questa volta ce lo invia Angelo dalla provincia di Varese, un oggettino da 12 volt 50 ampere. Andiamo a vedere cosa è successo, come sempre cerchiamo di approfondire un po' lo schema elettrico e tentiamo la riparazione. Per cui buona visione! All'interno della scatola abbiamo questa busta in plastica con questa lettera, Angelo complimenti, bel packaging. Vediamo cosa ci dice, alimentatore 12 volt 50 ampere switching, premetto che è collegato in serie con un secondo alimentatore identico per poter ottenere una tensione di 28 volt che alimenta un lineare della Bias A305, entrambi regolati a 14 volt in modo da bilanciare la corrente assorbita. Premetto che il cablaggio di connessione amplificatore è adeguato, 30 mm quadri con una lunghezza di un metro e mezzo. Non si accende il led di alimentazione posto a fianco dei contatti di uscita, l'ho aperto pensando fosse bruciato. Il fusibile invece è integro, la tensione in mosfet arriva ma non funziona più. Qui abbiamo già un indizio che ci fa capire l'applicazione, perché l'A305 è un amplificatore che opera in banda CB, quindi 27 MHz, 11 metri. Quindi direi che questo oggetto con il suo gemello creano la 28 volt che va in ingresso all'amplificatore per CB appunto. Andiamo a vedere qual è il problema, quindi apriamo la confezione e valutiamo. Ecco questo mattoncino metallico, sul frontale abbiamo l'etichetta, ingresso 110 volt o 240 volt 50-60 Hz, uscita 12 volt continui 50 ampere. Su questo lato abbiamo una ventolina, su quest'altro abbiamo il selettore per l'ingresso 110-200 volt, si vede in fondo che è settato per 220 volt, questo è fondamentale perché sbagliare a questo livello significa compromettere l'oggetto, ma c'è anche scritto. E infine su questo lato abbiamo la connetorizzazione, sia di ingresso che di uscita. Infatti vedete abbiamo fase neutro, il comune, quindi la massa, il positivo del 12 volt e poi abbiamo l'adjust, quindi per regolare esattamente la tensione come vogliamo. Sarà una regolazione fine, infatti Angelo ci diceva che ha spinto questo alimentatore fino a 14 volt, che penso sia il massimo per questo tipo di applicazione. Stiamo parlando di 600 watt 50 ampere sulla 12 volt, in un volume così piccolino mi fa pensare a una tipologia risonante, lo vedremo adesso comunque. Andiamo ad aprire il coperchio, semplicemente svitando le viti poste qua ai lati, vediamo che tipo di schema è stato realizzato. Ecco come si presenta il nostro switching. Dall'ingresso fase neutro incontriamo subito un condensatore in classe X2, quindi un condensatore di sicurezza posto fra le due linee che assolve la funzione di filtro insieme a questa bobina di modo comune. Se vi interessa un po' di teoria su questi filtri potete guardare i miei video 556 e 560, che parlano proprio della bobina e del filtro IMI in genere. Da qui poi abbiamo lo stadio di raddrizzamento, quindi con il ponte a diodic, ad onda intera, classico, due condensatori di livellamento e fino a qua abbiamo la tensione continua. Qua riconosciamo lo switch che commuta fra 110 e 220 in ingresso. Andremo a vedere dopo come agisce. Da qui in poi parte la parte di switching. Riconosciamo il grosso magnetico che è poi quello che ci fa anche isolamento rispetto alla rete elettrica e da qui in poi abbiamo la parte a bassa tensione. Questo grosso magnetico è pilotato molto probabilmente da dei MOSFET che si trovano sotto questo dissipatore e sono controllati da un integrato che sarà un PWM controller, probabilmente lì sotto. Qua abbiamo un po' di circuiteria, un po' di magnetici e qua abbiamo la parte di secondario dove riconosciamo gli elettrolitici per la stabilizzazione della 12V di uscita e questa grossa bobina. Questa bobina mi fa pensare che la topologia che stiamo guardando sia un forward. Infatti nelle diverse tipologie di switching quando abbiamo un filtro LC in uscita con una bobina così grande stiamo proprio parlando del forward che è comunque utilizzabile per potenze anche abbastanza elevate. Cosa che non sarebbe vera ad esempio per un flyback che sappiamo che si ferma a potenze più basse, massimo 150 watt circa. Rispetto a quanto ci dice Angelo, identifichiamo anche il fusibile d'ingresso e questo Angelo lo ha trovato buono. Quindi credo che ci convenga adesso rimuovere anche queste viti in modo che potremmo avere accesso anche al lato saldature di questo switching. Vediamo che comunque il circuito stampato è stato realizzato a una singola faccia con le saldature sotto. Notiamo anche una cosa interessante questa resistenza in cemento che dovrebbe appunto tenere degli impulsi di potenza importanti cioè se la parte al secondario avesse dei problemi questa andrebbe ad agire come un grosso fusibile di potenza quindi questo ne terremo conto più tardi quando andremo a fare le verifiche. Per liberare la scheda devo anche rimuovere le viti che sono poste qua sul pannello frontale che tengono collegato il grosso dissipatore. Le due viti andavano a fissare queste due staffette proprio per bloccare i semiconduttori a pressione contro il dissipatore. Ora l'unica cosa che tiene la scheda ancorata alla meccanica è il cavetto della ventola che possiamo però togliere perché abbiamo qua il connettorino. Sul fondo del contenitore poi abbiamo questo foglio di isolante che ci permette di tenere separato il lato saldature rispetto alla carcassa metallica. Infatti vedete questo è il lato saldature. Come è tipico di queste applicazioni abbiamo il rame scoperto in modo che poi venga ristagnato con stagno abbondante in modo poi che la portata in corrente venga diciamo aumentata. Infatti vedete le piste principali sono tutte esposte e stagnate quindi si può seguire anche abbastanza facilmente il percorso della potenza. Adesso che abbiamo la scheda libera possiamo finalmente andare a scoprire l'identità del nostro controller. È un 494. Se vi interessa la teoria di funzionamento di questo integrato potete guardare il mio video 393. Visto che abbiamo uno switching cinese utilizziamo un multimetro cinese quindi un unitrend. Andiamo a fare il test di continuità ci fidiamo ovviamente secamente di Angelo ma è giusto per far vedere il test che può essere utile a qualcuno. Multimetro in modalità continuità quindi quando tocco i puntali lui suona perfetto. Andiamo a vedere fra le due estremità metalliche del fusibile. Il fusibile è buono. Per quanto riguarda i semiconduttori al primario abbiamo due mosfet che sono dei 20N60C3 quindi dei 20A 650V 190mΩ di resistenza RDS ON. Qua invece abbiamo due diodi 30-100C3 quindi sono degli shotky che portano fino a 30A 100V di inversa massima quindi sono dei diodi a bassa caduta. Dal lato saldature cerchiamo di ricostruire il percorso che fa la corrente quindi dall'ingresso abbiamo fase neutro su questi due piedini. Riconosciamo la bobina di modo comune e le due linee alternate che arrivano sui pin centrali del ponte raddrizzatore. Poi abbiamo il positivo del ponte raddrizzatore questo pin che fa questo giro e arriva fino qua che è il drain del primo mosfet. Il negativo invece fa quest'altro giro da quest'altra parte e va sempre in area mosfet. I due mosfet poi vanno a pilotare il magnetico grande che si trova qui e il collegamento è fatto da questa parte e guardate con questo filo rosso per cui da qua si spilla il centrale del nostro ponte a commutazione e lo si porta qua al magnetico dove abbiamo presumibilmente questa resistenza in cemento in serie. Quindi una prima verifica che possiamo fare è alimentando con la tensione di rete magari fornita da un variac così andiamo su piano piano andare a vedere se la continua dopo il ponte raddrizzatore sui condensatori elettrolitici ce l'abbiamo e eventualmente potremmo farla con una misura ad oscilloscopio così vedremo anche eventualmente una commutazione del mosfet. Ecco con l'oscilloscopio mi raccomando sempre massima attenzione perché dobbiamo fare in modo che questo oggetto sia isolato dalla rete elettrica. Infatti io lo alimenterò con un variac che a monte è un trasformatore di isolamento e l'oscilloscopio con la sua massa che è collegata alla terra potremmo attaccarlo in un punto. Se non fossimo isolati dalla rete elettrica andremo a creare una richiusura che ci farebbe come minimo saltare l'interruttore di protezione e molto probabilmente andrebbe a danneggiare anche lo strumento. Inoltre per la misura utilizzo una sonda 100 a 1 in modo che così abbiamo un buon rapporto di attenuazione. È vero che il nostro oscilloscopio Regal ad esempio regge tranquillamente la 300 volt rms sulla rete elettrica però in applicazioni switching potremmo avere dei picchi fastidiosi ogni tanto per cui lavorare con una sonda 100 a 1 ci dà un piccolo margine in più. Prima di dare tensione verifichiamo se i mosfet sono integri per cui col multimetro in modalità prova aggiunzione mettiamo il puntale rosso sul source e il puntale nero sul drain e andiamo a cercare il diodo in antiparallelo. 497 millivolta è la tensione di soglia del diodo quindi si vede una giunzione questo ci fa pensare che potrebbe essere buono. Stessa operazione nel mosfet superiore e scusate che tocco bene ecco sì anche questo è buono circa 500 millivolt. Portiamo l'uscita del variac in morsettiera in ingresso al nostro alimentatore. Ecco uno schema molto semplificato del nostro amplificatore quindi dall'ingresso filtro IMI, ponte raddrizzatore, i due condensatori elettrolitici che si trovano in serie e i nostri due mosfet che sono collegati in questa maniera. Direi che il punto più interessante da guardare è il punto mediano per cui andremo a mettere la sonda del nostro oscilloscopio esattamente su questo punto con il riferimento a questa massa quindi al negativo di questo condensatore e in condizioni normali questo punto deve oscillare tra 0 e 300 volt. Andiamo a vedere cosa accade. Impostiamo l'oscilloscopio mettiamo 100 volt di visione. Ricordiamoci che la sonda deve essere messa in attenuazione 100 quindi è un 100x. La base tempi la scegliamo abbastanza veloce perché dovrebbe essere uno switching quindi diciamo 100 microsecondi di visione questo orientativo. Il trigger lo mettiamo qui poco sopra lo 0 e poi andiamo a definire l'ampiezza del quadretto. Qua abbiamo un chilo volt un po' troppo andiamo a mettere direi 100 volt di visione. Ecco e poi mettiamo lo 0 in modo che esatto qua si possa vedere bene il nostro segnale che sale. Quindi io adesso andrò ad alzare il varia che questo livello di continuo dovrebbe salire e vediamo anche se switcha. Quindi il nostro trigger lo riportiamo qui e vediamo cosa accade. Imposto 50 volt di visione vado su piano piano con la manetta del variaq. I primi 50 volt tutto ok. 100 150 ecco qua praticamente siamo a 230 di tensione alternata in ingresso e ho su questo punto mediano circa 142 volt. Questo punto quindi invece di switchare vediamo che assume una tensione intermedia rispetto alla tensione di bassa. Per curiosità andiamo a vedere col multimetro fra la massa del nostro condensatore e il positivo quanto vale la tensione applicata ai due mosfet in serie. Misuriamo quindi fra il source del transistor basso e il mosfet di questo alto. 329 volt. Ok questa è la raddrizzata della tensione in ingresso. Previamo il controllo al mosfet quindi preleviamo la tensione sul gate del mosfet basso. Mi metto a 5 volt di visione e do tensione. Come prevedibile la tensione di gate rimane bassa. Visto che i mosfet non sono controllati andiamo a vedere cosa combina il TL494. In particolare potremmo andare a vedere dapprima i segnali di comando che sono rappresentati dai pin E1, E2, C1 e C2 che sono i BJT di uscita quindi in particolare andremo a vedere il pin 8 e il pin 11 che sono i collettori dei due transistor. Se mi posiziono sul pin 8 e sul pin 11 sono tutte e due a 0. Mi viene il dubbio che il TL494 sia alimentato. L'alimentazione la dobbiamo trovare tra il pin ground il 7 e il VCC il 12. Andiamo a vedere. Vado a prendere la tensione al pin 12 riferita al 7. Anche qui calma piatta quindi è corretto nel senso che il TL494 non è alimentato e quindi non può generare i segnali di comando ai mosfet. Vediamo da dove prende l'alimentazione il nostro TL494. Qua c'è il pin 1 del nostro regolatore. Questo è il 7 vedete che è collegato a massa. Dall'altra parte abbiamo 8 9 10 11 12 quindi il VCC è questo. Segue questa pista. Poi arriviamo in questa zona dove c'è questo magnetico e subito da quest'altra parte abbiamo questi tre pin che sono molto probabilmente un transistor che switcha per creare l'alimentazione di servizio al TL494. Allora se andiamo sul lato componenti eccolo qua questo transistor tra l'altro è anche dissipato quindi così per curiosità andiamo a vedere se c'è isolamento fra i suoi pin quindi vediamo se si vede l'aggiunzione ad esempio tra base ed emettitore. Inoltre noto che sui suoi pin abbiamo delle piste dove sembrerebbe che ci sia stato un po' di calore magari questo è normale e poi se vedete c'è anche qualche riga qua comunque andiamo a vedere fra base e emettitore quindi questo è il piedino di base l'emettitore e questo non è buono e quindi qua avrei dovuto sentire una giunzione non vorrei che magari c'è in parallelo qualcosa che mi fa sentire l'aggiunzione cattiva comunque ci mettiamo poco lo dissaldiamo e vediamo se anche da smontato fa vedere questo comportamento a bassa resistenza diamo un volto a questo sconosciuto è un 13 007 che è un npn 8 ampere 400 volt ma con un guadagno per banda di 4 megahertz quindi questo è un transistor switching andiamo a vedere tra base e emettitore stavolta non ho il corto ma non vedo l'aggiunzione questa non è una cosa regolare quindi questo mi sembrerebbe non essere a posto tra l'altro si nota sul lato componenti un po di nero magari è sporco ma a me qua sembra più una gran scaldata vediamo questi due diodi che sono in zona di questo transistor e sono vicini anche questo magnetico sempre in modalità prova aggiunzione andiamo a vedere quindi tra anodo e catodo questo risulterebbe in bassa resistenza vediamo l'altro che è girato dall'altra parte pure questo allora c'è da dire che qua abbiamo il magnetico per cui potrebbero essere in parallelo all'avvolgimento andiamo a vedere beh questo è l'avvolgimento questi sono i due diodi vedete che sono posti praticamente in serie e hanno i due anodi in comune quindi per essere sicuri che siano correttamente funzionanti alziamo solo un piedino e ripetiamo il test ho alzato il catodo del diodo facciamo il test eh sì è proprio in corto quindi questi due diodi che sono a protezione e probabilmente del transistor uno con l'anodo da questa parte l'altro con l'anodo dall'altra sono in corto circuito li andiamo a rimuovere per toglierci il dubbio se questo è ancora un transistor usiamo l'analizzatore di componenti dca della pic che ho recensito nel video 392 quindi lo mandiamo in test lui applica le varie polarizzazioni i tre pin qua non rileva nessun tipo di componente attivo e questo mi torna anche perché non vedevamo nessuna giunzione col multimetro e quindi questo transistor non si è messo in corto circuito ma non funziona più inoltre il corto che vedevamo tra base emettitore abbiamo capito che era causato da quei due diodi a protezione che erano tutti e due in corto quindi in effetti quel marroncino che vedevamo ha giustificato una grande circolazione di corrente che ha comportato la rottura del transistor e dei due diodi a protezione il 1300007 non è un transistor qualsiasi perché come vedete tiene ben 400 volt 8 ampere e poi è velocissimo infatti è pensato proprio per applicazioni switching quindi da sostituire è un qualcosa di un pochino complicato sto cercando nei miei cassetti se ho qualcosa che ci va vicino ad esempio dei tip 33 o 34 che potrebbero andare anche bene forse per la corrente ma come vedete la tensione troppo bassa infatti adesso andiamo a vedere dove è messo questo transistor ma praticamente si trova sulla 300 volt continua perché va a switchare la raddrizzata per creare questa piccola alimentazione di servizio e quindi abbiamo un problema dello switching nello switching cioè lo switching principale non può funzionare perché lo switching secondario non sta funzionando quindi la situazione dovrebbe essere la seguente abbiamo che i nostri due mosfet di potenza questi sono integri e pilotati dal 494 che però è spento infatti lui è alimentato sulla sua vcc da questo stadio switching realizzato da questo transistor bjt che abbiamo appena tolto e abbiamo visto che è guasto che pilota questo magnetico questo gruppo qua però è attaccato direttamente tramite queste resistenze di potenza queste qui al positivo della 300 volt quindi questo transistor deve reggere 300 volt non possiamo metterci un transistor a bassa tensione e inoltre deve essere molto veloce e portare tanta corrente quindi un oggetto molto particolare a questo punto guardiamo un po in rete cosa possiamo trovare che possa andar bene e che soprattutto si trovi abbastanza facilmente sui distributori online ad esempio far child fa questo fjp13009 notate la sigla 1300 che è molto simile a quella che abbiamo visto prima questo è un fast switching npm e dovrebbe andare bene perché ha caratteristiche di tensione addirittura 400 volt quindi perfetto 12 ampere più degli 8 di quello che abbiamo smontato ma soprattutto ha un guadagno per banda di 4 megahertz quindi assolutamente adatto e veloce e utile per sopportare lo switching di questo piccolo regolatore adesso cercherò di recuperare questo transistor e quindi dovremo attendere il suo arrivo è finalmente arrivato il transistor in sostituzione fjp13009 che andrà a rimpiazzare tr1 vedete che la base di questo transistor è collegata a questi due diodi di cui uno zener e un diodo normale che avevamo trovato in corto circuito quindi dobbiamo andare a sostituire anche questi due componenti e nel dubbio che non potessimo sapere bene il valore fortunatamente sullo schema è stampigliata la sigla quindi nel caso del diodo zener abbiamo una 472 che ci indica chiaramente la tipologia di diodo zener e tensione vicino invece al diodo normale abbiamo un 4148 serigrafato per cui siamo in grado di sostituire anche questi due componenti montiamo il transistor sulla letta di raffreddamento e non dimentichiamoci di utilizzare la vite con la rondella isolante abbiamo rimesso in pista i nostri tre componenti quindi transistor diodo zener e diodo normale teniamo ora quindi sotto controllo la tensione mediana sull'oscillatore primario con una sonda 100 a 1 e andiamo su con la tensione 230 volte in ingresso in maniera graduale con l'uso del variac salendo lentamente col variac sono arrivato a un livello di circa 100 volte in continua misurato sul mosfet a fronte di una tensione di ingresso di quasi 200 volte alternati ma non si è innescata nessuna oscillazione in queste condizioni prelevo la tensione fra i pin 12 e 5 del nostro tl 494 e come vedete non c'è alimentazione abbiamo solo 0 33 volt misuro anche la tensione un pochino più a monte quindi verso il secondario del primo switching quello subito dopo il transistor ma come vedete la situazione non cambia non abbiamo la nostra tensione continua di questo switching quindi molto probabilmente il transistor che abbiamo sostituito non sta lavorando ora che siamo saliti piano piano e abbiamo visto che non si rompe niente non salta il fusibile potremmo dare direttamente la 230 volta tutto in una volta e vedere se si innesca l'oscillazione di questo transistor quindi terremo sotto controllo la tensione a questo punto se il transistor non si accende questo punto rimarrà rispetto alla massa a il valore totale della raddrizzata cioè circa 310 volt ho posizionato le sondine fra il collettore la massa diamo tensione 310 volt si sono invertite per cui abbiamo un segno meno però come vedete il transistor non è acceso e sul suo collettore abbiamo tutta la tensione di rete raddrizzata spegniamo vedete che la tensione cala mi raccomando ricordatevi sempre di scaricare condensatori possibilmente con una resistenza in modo che così siete sicuri che quando andate a mettere le mani sulla scheda e avete tolto la connessione alla rete elettrica non ci siano condensatori carichi ho controllato il data sheet del transistor che abbiamo messo in sostituzione probabilmente richiede una corrente in base un pochino superiore per l'innesco per cui qua abbiamo due resistenze da 520 kg ohm ne aggiungo un'altra in parallelo da 300 kg ohm circa in modo che così aumenteremo un po la corrente e faremo forse accendere questo transistor ecco la nostra resistenza montata in parallelo temporaneamente direttamente su i reofori delle altre due così riusciremo ad avere una resistenza equivalente di valore più basso ho notato che appena do tensione questo punto si porta a 590 millivolt che mi sta a dire che il transistor è acceso ma non lo voglio acceso lo voglio oscillante per cui per qualche motivo non si innesca l'oscillazione andiamo a verificare questo condensatore che concorre a appunto l'oscillazione di questo stadio switching vediamo se questo è ancora buono con il tester ho verificato che questo diodo vicino al condensatore risulta essere in bassa resistenza potrebbe forse essere normale perché probabilmente è in parallelo all'avvolgimento di questo magnetico ma come sempre per verificarlo alziamo un piedino e andiamo a vedere se vediamo l'aggiunzione ho alzato il catodo posiziono il multimetro in modalità prova diodi si accettano scommesse eccolo qua un altro cadavere d'altro canto potevamo anche forse immaginarlo perché si è rotto transistor questi due diodi era difficile che questo fosse sopravvissuto andiamo a rimuoverlo e vediamo che diodo è ancora una volta se non fossimo in grado di leggere la sigla sul componente abbiamo qua in serigrafia 41 48 quindi un diodo estremamente standard prima di dare tensione ho verificato anche le altre giunzioni al secondario e sono tutte ok ho dato tensione di colpo per favorire l'innesco dell'oscillazione ma purtroppo come vedete sul collettore del transistor rimane sempre la tensione continua quindi non parte lo switching di questo piccolo stadio se misuro la capacità di questo condensatore alta tensione misuro 326 microfarad con il fluc una misura completamente sballata considerato che è inserito nel circuito per cui adesso come prima per misurarlo correttamente alziamo un reoforo lo misuro col capacimetro 817 picofarad a 200 kHz sembrerebbe quasi buono considerate che è stampigliato 102k quindi dovrebbe essere un nano è una capacità un pochino più bassa e considerato che lavora in alta tensione perché questo è un condensatore da 2kv lo sostituiamo perché non vorrei che con i picchi ed eventualmente nel guasto si sia rovinato poi il dielettrico per chi ama l'alta tensione non dovrebbe essere un problema trovare condensatori da 2kv un nano io ho trovato questo che è in scatolato un nano 3kv quindi tiene più tensione ovviamente è un po più grosso però di questo condensatore mi fido quindi andiamo a fare la sostituzione effetto un montaggio provvisorio sul lato saldature vediamo cosa accade ho ridato tensione tutta di un botto ma purtroppo ancora l'oscillazione non parte sempre 320 volt continui sul collettore del transistor è mosso anche questo condensatore ma come potete vedere anche questo è buono 4.8 nanofarad dunque al primario abbiamo verificato proprio tutto a questo punto ci conviene andare al lato secondario e aprire i secondari visto che ce ne sono due andiamo ad alzare i diodi di raddrizzamento dei due secondari in questa maniera il nostro switching dovrebbe lavorare a vuoto non vorrei che infatti a valle di questi secondari ci sia un problema che carica troppo lo switching e non lo fa partire per verificarlo quindi andiamo ad alzare i diodi ce ne sono due quindi tireremo solo su un piedino di tutti e due in modo che così non possa circolare corrente al secondario i due diodi in questione sono questo al quale ho alzato il catodo e quest'altro non so se lo vedete qua in verticale e quindi abbiamo i due secondari sezionati guardiamo nuovamente la tensione sul collettore diamo tensione no purtroppo ancora rimane così non entra in oscillazione analizziamo un po il principio di funzionamento di questo stadio non avevo disegnato questo ramo che è molto importante perché il ramo di retroazione è quello che cioè permette di oscillare a questo bjt infatti abbiamo un secondario dedicato alla retroazione e funziona così ogni volta che accendiamo quindi abbiamo il positivo della nostra tensione qui il transistor si polarizza per accendere e quindi tira una corrente su questo avvolgimento siccome c'è questo avvolgimento di servizio la corrente viene riflessa da questa parte quindi viene tirata corrente da questa parte e in pratica lo va a spegnere perché estrae corrente dalla base quindi appena il transistor si accende c'è un avvolgimento che lo vuole spegnere questo palleggio innesca la oscillazione del nostro switching e quindi dovrebbe creare una frequenza dell'ordine dei kilohertz in grado di trasferire energia sul secondario che poi invece va ad alimentare il tl 494 se abbiamo 300 volt fissi qui e il transistor non si innesca mai significa che questo ramo funziona ma che qua non viene tirata corrente allora avevo provato a esaminare questo condensatore il valore era ragionevole adesso lo sostituisco per essere sicuri che questo ramo possa effettivamente funzionare vi ricordo che avevo sostituito anche questo diodo che era in corto ho sostituito il condensatore con un equivalente da 4.7 nano 100 volt poliestere ma ovviamente la cosa non cambia a questo punto il maggior indiziato è il magnetico quindi andiamo a vedere la bontà di questo avvolgimento banalmente con un multimetro andiamo a vedere quanto vale la resistenza di questo avvolgimento per fare la misura mi metto in modalità ometro e utilizzo i due terminali a minor resistenza che ho vedete che qua praticamente se li metto in corto 0.1 andiamo a misurare le resistenze di avvolgimenti questo è quello di servizio nostro quindi quello che dovrebbe fare la retroazione 0.2 quest'altro è il primario quello sul transistor 0.3 poi abbiamo quello secondario che alimenta il 494 0.2 e infine questo 0.2 resistenze di avvolgimenti molto molto basse specialmente questa questa dovrebbe essere la bobina che sostiene la corrente di collettore quindi mi aspetterei un valore leggermente più alto degli altri qua sembrano essere tutti uguali per questa misura avevo alzato il condensatore adesso lo possiamo riattaccare e andiamo a tenere sotto controllo la tensione su questo avvolgimento di servizio mi sono messo sulla tensione del secondario di servizio a scala molto ridotta 200 millivolt in modalità single ho fatto tanti tentativi ma la tensione non si è mai schiodata dallo 0 quindi quel magnetico purtroppo non trasferisce più energia dal primario al secondario molto probabilmente si è cotto nel senso che gli avvolgimenti al suo interno sono andati in corto circuito spira e questo mi giustifica anche il bassissimo valore di resistenza praticamente identico su tutti gli avvolgimenti cioè non c'è nessuna differenza sostanziale in termini omici dunque di questo stadio di servizio abbiamo controllato praticamente tutto l'unica cosa che è rimasta purtroppo è il magnetico quindi questo oggetto che ha un primario due secondari che secondo me visto il guasto che abbiamo trovato con il transistor in corto e tutto in corto è successo che una grande corrente ha attraversato il primario e praticamente io sto ipotizzando un corto spire o comunque un degrado del magnetico che non lo fa vedere più con i suoi valori nominali di induttanza e quindi non può più entrare in oscillazione questo quindi è forse il guasto più antipatico per uno switching perché sono oggetti custom quindi non si possono trovare commerciali sono avvolti ma in realtà poi non è così raro trovarli rotti perché la qualità realizzativa di questi oggetti è molto bassa per cui sugli isolamenti spesso ci sono delle lacune inoltre è un oggetto molto sollecitato lavora ad alte tensioni per cui c'è anche caso che con il tempo si sia degradato l'isolamento e abbiamo avuto un problema di corto circuito spire o comunque un problema sugli avvolgimenti è un peccato perché la parte di potenza dello switching mi sembrava correttamente funzionante infatti avevamo trovato integri sia i mosfet che i raddrizzatori al secondario però con un guasto a questo switching di servizio non è possibile azionarlo questo però ci ricorda sempre che le riparazioni si possono tentare ma non sempre riescono e in questo caso quando viene coinvolto un componente custom come questo la riparazione diventa molto difficoltosa perché andare a ricostruire questo oggetto è qualcosa che non è assolutamente facile e con questo termina il video e come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.